Come è andato il giro nelle eccellenze salentine? Ce ne sono tante da tutelare in questo periodo. Assolutamente, ci tengo a valorizzare la Puglia che guarda al futuro, che guarda al lavoro, alla crescita, allo sviluppo, all'ambiente, ai giovani, non all'assistenza, alle lemosi né all'emiliano per intenderci. E qua c'è tanta gente che sa fare bene il suo lavoro. Ha visto il panorama della Stato della Xilella venendo qui? Sì, qualcuno ha dormito, anche perché non solo non l'ha sconfitta qui ma la sta facendo arrivare anche in altre province, penso a Bari. Il tema agricoltura e tutela del territorio sarà una nostra priorità e non vedo l'ora che arrivi settembre. Si è parlato di un accordo fra il Movimento 5 Stelle e il PD che è saltato perché Grimi ha dato la benedizione alla candidata, quindi non ci sarà questo accordo? E' un vantaggio questo per il centro-destra? No, possono fare quello che vogliono, tanto dopo 15 anni si cambia. Se Emiliano avesse lavorato bene non avrebbe questa paura, non cercherebbe accordi e accordichi la sera e la mattina. Dopo 15 anni si cambia, possono fare quello che vogliono, ma qua la regione si occupa di sanità, di infrastrutture, di ambienti, di agricoltura, di turismo, cosa che Emiliano è stato in grado di fare. State aprendo un po' di sezioni, la Lega prende piede a livello territoriale, il risultato secondo lei sarà più forte rispetto a quello dei competitori interni, tipo i fittiani? No, ma noi gli avversari sono fuori, non in squadra, però in un weekend aprire delle sedi a Matera, Martina Franca, Gallipoli, Fasano, vuol dire che mentre c'è qualcuno che è chiuso nel palazzo, noi ci apriamo. Il fatto di essere qua in tanti un sabato mattina di fine luglio mi dice che siamo sulla strada giusta. Ti dica tre cose per tirare su le imprese in questo periodo, tre provvedimenti. Due, meno tasse e meno burocrazia. Lunedì pagheranno le tasse 5 milioni partita IVA ed è una cosa da fuori di testa, burocrazia vuol dire azzerare anche in regione Puglia le troppe complicazioni, pensiamo alle aziende agricole quanti moduli devono compilare per accedere ai fondi, quindi meno tasse e meno burocrazia, ne bastano due e non tre.